Amiche ed amici di Rai 2, buon pomeriggio, bentrovati alla tredicesima giornata di gare ai mondiali di Budapest 2017, la quarta in vasca. Qualcuno ha detto arrivano i mostri, insieme ai grandissimi del nuoto mondiale arrivano anche i nostri. Federica Paltrinieri nell'attesa finale dei 200 stile a caccia della settima medaglia consecutiva nelle edizioni dei mondiali. La sua decima sarebbe davvero un fatto epocale.